Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, corgasmi che sono qui a portarvi un nuovo squad builder. In realtà dovevo portarvi un altro tipo di video, cioè le bestie nascoste, il nuovo episodio. Però poi provando questa squadra ho voluto portarvela perché è composta, è una ibrida composta da 7 giocatori upgradati, quindi ci sta. È una squadra molto buona che bisogna comunque saper utilizzare, è composta da 4 campionati e 4 nazioni diverse. E comunque ho utilizzato il 4-3-3-3, non so però il prezzo effettivo anche perché poi i prezzi dei giocatori, soprattutto quelli upgradati, variano. E quindi direi di partire subito con il portiere, stiamo parlando di Ioris che è probabilmente il portiere migliore del gioco. Comunque uno dei tre portieri più forti che Yobi ha mai provato. Costa tanto ma il prezzo è relativo all'anno scorso, quindi adesso non so effettivamente a quanto sta. Però è sicuramente un portiere che vale ogni cifra perché veramente para di tutto. L'unica cosa negativa forse è il suo piazzamento che non è altissimo e quindi fa un po' fatica delle volte, però comunque sia è un gran portiere. Poi andiamo subito con la difesa, il terzino destro è Danilo, versione upgrade, versione molto buona, non ha una velocità esagerata, però comunque sia è bilanciatissimo come difensore. Cioè come terzino ha un ottimo tiro per essere poi un terzino, un gran passaggio, un ottimo dribbling, valori di difesa fisico molto alti. Quindi è davvero un terzino completissimo, forse il più completo che ci sia e quindi ci sta di brutto. Poi, difensore centrale di destra ho utilizzato Naldo, upgrade anche lui. Naldo mi è sempre piaciuto come difensore centrale perché anche se ha wargrate alto normale comunque si sente poco ed è sempre in difesa, quindi è forte. Costa veramente poco, anche la sua versione upgrade, neanche mille crediti e vi garantisce comunque una discreta velocità e soprattutto molto forte in difesa. Pericolosissimo sui calci d'angolo, visto che comunque è alto quasi 2 metri e poi ha un ottimo fisico. Poi il suo compagno di reparto invece ho utilizzato, dov'è, 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 Cossielni. Anche lui versione upgrade, versione veramente meritata ma soprattutto veramente forte, con una velocità impressionante e valori di difesa molto alto. Fisico un po' meno, ma è sempre stato un po' il problema di Cossielni, il suo fisico non altissimo. Il prezzo è molto alto perché ovviamente gioca in Premier League, quindi si tende un po' ad alzare il suo prezzo, comunque sia, è davvero un'ottima spesa ma comunque che rende molto. Mentre il terzino sinistro per completare la difesa è Clichy, che non è upgrade, però comunque sia, è sempre un buon giocatore. L'unica cosa che non mi piace di Clichy è il suo passaggio che delle volte è molto random e regala il pallone agli avversari. Poi andiamo con i due cdc, o meglio con il centrocampo, troviamo Luis Gustavo a destra che è ottimo da fare da schermo, comunque davanti alla difesa, un po' meno poi a impostare o anche a tirare, viste le sue doti di tiro e passaggio non altissime, però comunque sia, va sempre bene, è un giocatore che recupera tanti palloni. E dall'altra parte abbiamo Matuidi, molto buono anche Matuidi, stesso discorso di Gustavo, non ha particolari doti di tiro, anche se in realtà mi ha fatto tipo due gol di long shot, che forse vedrete nelle clip finali, quindi sembra che abbia anche un po' di più di tiro, purtroppo ha di destra veramente una scarsone, cioè regala un sacco di palloni agli avversari, però a me è piaciuto molto come giocatore, anche se non è velocissimo. C'è da dire che delle volte questi due centrocampisti difensivi ricordano un po' i vari montari SN del Milan attuale, quindi fate attenzione quando li usate. Mentre il CC ha un po' più di qualità, e stiamo parlando di Payette SIF, cioè IF, upgrade sarebbe comunque la versione upgrade, che è molto buono, anche se secondo me è molto sprecato utilizzarlo da centrocampista, molto meglio da trequartista, comunque un gol e due assist per un centrocampista comunque centrale, io direi che va abbastanza bene. Un giocatore molto molto buono, duttile, con una discreta velocità, ha un ottimo dribbling, batte le punizioni in una maniera divina, purtroppo non ha mai segnato con me, però mi ha preso due pali anche dalla lunga distanza su calcio di punizione, ed è comunque un buon assist man, quindi ve lo consiglio. Il prezzo attualmente è un po' altino, però penso che scenderà, e comunque provatelo perché è un ottimo giocatore. Poi andiamo con l'attacco, troviamo a destra Lucas, upgrade anche lui, che è molto buono, un gol e un assist in quattro partite non è moltissimo, ma non è neanche poco. Attualmente costa un po' quasi 10.000 crediti, però comunque sia, vi garantisce grande velocità sulle fasce, è un ottimo dribbling come potete vedere anche poi dalle quattro stelle abilità. Purtroppo ha questo work, normale normale, che per un'ala non è il massimo, magari per un esterno va già bene, però per un'ala se avesse alto di attacco sarebbe decisamente meglio. In ogni caso, buon tiro e ottimo passaggio. Poi, alla sinistra ho usato Ferreira Carrasco, che è veramente la rivelazione di questa squadra, tre gole e un assist in quattro partite, davvero non me l'aspettavo per un giocatore che prima era argento e adesso è stato upgradeato a oro. Un giocatore che è molto, molto forte, ha un buon controllo palla, un'ottima finalizzazione in aria, un buon tiro, un buon passaggio, un ottimo dribbling. Peccato davvero che non ha queste quattro stelle abilità che l'avrebbero reso davvero un mostro, a mio avviso. Però comunque sia, provatelo, merita, costa un cavolo e comunque è un ottimo, ottimo giocatore. In realtà, volevo registrare questa squadra per le bestie nascoste, perché volevo inserire appunto Ferreira Carrasco nelle bestie nascoste, però poi mi è venuto in mente di fare uno squad builder. E infine abbiamo la cassette upgrade, che purtroppo, dico purtroppo, non ha reso le mie aspettative. Diciamo che mi aspettavo che fosse un giocatore diverso, molto più forte di quello che è stato quando l'ho provato. L'ho pagato tanto, circa 20.000 crediti, ma io sono convinto che in attacco a uno non fa il suo dovere, ma lo fa in attacco a due, come del resto la sua versione precedente. Quindi se voi l'avete provato in attacco a due, fatemi sapere come vi è parso, perché a me in questo modulo non mi ha fatto impazzire. Comunque due gol e tre assist non sono dati da buttare in quattro partite, soprattutto per quanto riguarda gli assist. Se avesse fatto anche un gol in più, sarebbe andato decisamente meglio. Quindi è un giocatore che fa qualche gol e soprattutto ti mette davanti alla porta per fare gol. Quindi è un buon assist, anche perché per essere un attaccante è un buon passaggio. In ogni caso mi aspettavo qualcosa di più. Ripeto, se l'avete provato in attacco a due, fatemi sapere come vi siete trovati, perché mi interessa. Comunque raga, la squadra è questa. Il prezzo non lo so, ma comunque potete farvi due calcoli. Quindi se vi è piaciuta lasciate un bel like, a 300 mi piace uscirà un nuovo video. Il prossimo video sarà sicuramente sulle bestie nascoste, quindi avete ancora tempo per consigliarmi qualche giocatore oro, bestie nascoste a oro, che potrei trattare, perché probabilmente... Cioè mi manca solo quello da registrare. Iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, adesso vi lascio le clip. Bella raga! Ciao! Grazie a tutti.